Mercoledì 11 luglio 2018, siamo qui alla Ghezza di Corso 4 novembre, dove dei terribili vecchietti si stanno adoperando per sistemare la recensione perché a quanto pare qualche tartaruga questa notte o ieri ha tentato la fuga. Cosa si può dire professore? Innanzitutto buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque la rete è stata messa qualche anno fa un po' fortunosamente perché sono pezzi diversi e noi non siamo degli esperti per cui l'abbiamo messa come abbiamo potuto e il problema è che le tartarughe hanno anche un becco che taglia queste reti di plastica e un'altra cosa caratteristica delle tartarughe è che vanno a cercare le zone soleggiate e che quindi siccome questo giardino è molto ombroso vanno a cercarle anche fuori, sull'asfalto, sui marzapiedi. Ieri alcuni signori ne hanno trovato un paio verso il muro della scuola per cui abbiamo fatto una piccola ricognizione che continueremo anche nei prossimi giorni. Abbiamo scoperto proprio in questa zona un tratto tagliato probabilmente dalle tartarughe, non ce ne siamo accorti, adesso abbiamo comprato la rete nuova e stiamo picchettando al terreno questo pezzo di nuova rete che è qui. Stiamo picchettando sempre con Gianni, adesso lo fisseremo anche con delle fascette. Facciamo quello che possiamo insomma. I terribili vecchietti. Al lavoro. I terribili vecchietti e al lavoro. Sempre al lavoro. Gianni hai qualcosa da dire? Io ho sempre lavorato in silenzio. Bene. Questa è proprio una filosofia. Lavorare e non parlare. Qualcuno diceva prega e lavora. Ora e te lavora. Ah ma siete proprio attrezzati con cassette e tutto quanto? Sì. Ferri, forbici, tronchagini. Abbiamo una piccola cassetta di pronto soccorso. Ottimo. Per far ritornare a risplendere un po' questa città. Adesso mettiamo le fascette. Questo angolo della città. Bisogna mantenerlo perché in una situazione dove il degrado e l'abbandono è la cifra comune, noi cerchiamo almeno nel nostro piccolo come possiamo, di tenere perlomeno le cose come stanno, ecco, di non farle decadere. Hai già le fascette quelle verdi? No, ho quella, ho questa qua. Sì. Questo qua. Ecco qua. Sì. Ora, che ti penso io. Il lavoro sta proseguendo. Adesso sta preparando. Sta preparando. Più sotto, più sotto. Devi proprio, ecco, devi lasciarli conto. Poi senti lo scatto, il tic. Perfetto. E adesso con queste fascettine andate a fissare la rete su quella già esistente. Se passa però. Passa, passa. Una pinzetta. Vai. Fa tirarla fuori. Che se ne abbiamo fatto. Ottimo. Va bene. Io vi lascio il vostro lavoro. Ormai si tratta solo di fissare con queste fascette. E anche sul fianco. E anche sul fianco. E poi mi pare che il lavoro sia terminato. Va bene. Al prossimo cantiere. Al prossimo cantiere. Buongiorno professore. Ciao Gianni. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.